bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video la porto a casa perdere del tempo non perde del tempo e so cosa devo fare dai è praticamente già vinta signori signori a me sembra una fishing f non la vince siamo free e fria pesca dal solito ragazzi non fanno cazzate non dal solito sappia che se lei frizza è l'ultima volta che ci prova ma non posso frizzare dai ah io dico sì io sono d'accordo con F ma perché lei deve sempre essere d'accordo con F ma ragazzi volete che facciamo come l'ultima volta quindi non ci mettiamo qua ma andiamo dove c'è i barili giganti allora io pesco fino ai punti di pesca della cascata numero 2 poi torno indietro e mi porto dall'altra parte è free ragazzi è fattibile comincio a rientrare altrimenti non riesco più a droppare poi ok io sono messo molto bene se io non sono messo malissimo ma pochi pochi flopper purtroppo uno solo ho pescato solo armi calma con calma con calma lo so che sto lasciando pesci in giro ma finchè non arriva la safe posso tornarci lo sapete ragazzi che paradossalmente vabbè per la prima safe frega un cazzo ma sai di qua potreste mettervi a pescare altri pesci non in tempesta non cambia niente la safe da 1 non ci attacca e infatti infatti con la safe 1 non cambia niente ok ho preso i pesciolini in giro io odio perché troppo a tutto a caso non c'è un'idea non c'è un'idea troppo a caso allora ricordiamoci il camion slurp come l'altra volta e poi se riesci a cosare le slurp come l'altra volta è bene ah è vero c'è gente che mi ha visto pescare non ci credo per cento per cento ma come ci sono nascondiamoci 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 arrivano arrivano prendete tutto 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 e venite dietro nella posta dietro vengono contro 6 fate vomitare arrivano arrivano contro 6 dai fate sboccare non penso verranno fino a dietro c'è mi sembra impossibile ma no ma io l'ho visto le visite subito indietro pizza in realtà vedo dove ne vedo cosa fanno f è andata via due li vedo però non lo vedo che sono andati via perfetto perfetto comunque questa volta su der quando aveva finito i pesci piccoli è partito tipo in ritardo di un pochettino è porco diaz ti mandi perché me lo giuro se vinciamo la proviamo a c'è ragazzi la proviamo la proviamo dai 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 e fe però il fatto di mettere la roba guanini e mi sa che la dei part è perché ho meno vita forse e faccio il vacce al posto della canna da pesca f prenderò i pesci punto zero a suders giro forfus faccia i barili quando c'è sopra pensi di morire a breve io e questo c'ha le meduse bene ragazzi bene 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 anche una velocità folle perché può capitarti quel momento che te lo da subito minchia di tanto me lo perdo a me tu e io muoio e nico a vixi da te vicini lo dire abbiamo pescato pochissimi le meduse comunque si è vero eccola qua la medusa f prendila prendila che ora la vengo a prendere 23 di vita e io non posso più curarla mi preparo sicuri con qualche pesciolino ma sono morto io ok formo tutto e vado a farmi i barilotti perfetto parta con tutti i cosi full sono pizzi lascia tutto per terra che stai per morire mi sono lasciato posto taglio 5 chiudere già adesso più vicino l'ho preso gli ho presi più vicino così qua poi sono quei due qua sotto non è che troppo tempo non serve a niente non rompa subito rompa subito bravo bravo si si faccia piano 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 ha lasciato 15 barili non è vero non è vero chi ne ha lasciati almeno sei almeno sei prima di partire al cosare vado a prendere altri pesci ora no 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 a prenderli ma da proie 8 troppo ok pesciolini vada sicuri pesciolini che non ci dovrebbe andare vado sopra ne ha quattro da fare qui si faccia in questi quattro sicuro che mi è andata la vera che valeva la pena andare a cambiare se non se non muore ne basta le avevano per forza se muore no un'altra ora per me deve tornare indietro non so se sarà fare anche se come si vuole che torna indietro poi viene da un po di testa non lo rompa subito non lo rompa subito e aspettare aspetti aspetti ancora va bene va bene a 30 va bene va bene va bene ma vedo la torna a piedi veramente c'è parte dopo tempo col camion f tra papi e dice la faccia certo che ce la faccio vero per lo spero per lui perché tra 30 secondi 10 10 adesso li consuma si si rifaccia i pesci prima vede quanti lo personale si ma io adesso consumo tutto con calma si porta di 33 stock di flopper e poi ma me ne vado con tutto dopo io non torno più qui è lo so sì il punto usi tutto quanto si si tenga presa si tenga tre slot di flopper in alimentari o benissimo mica sono ancora 3 team oltre al pseudo è lunga stiamo guarda no non non è lunga mancano due zone due strada di flopper e 3 di sardine giusto si guardi dietro ci sono altri pesci che ho guardato bene se ce n'è uno qua non ti allontani troppo sennò per te l'uno di vita che ho un incollo 3 vivi ok 3 team da 1 non perda nemmeno un secondo no e quindi ormai so quello che devo fare chiederei un attimo di concentrazione per favore 2 prendo questo e parto ultimo pesce ma divate solo devo fare subito vado non ce ne sono più lì ma il barile a 50 mi raccomando a 50 subito faccia flopper faccia flopper fatto questo ok perfetto va bene così per flopper flopper lo tengo lo tengo ok pronto col flopper vada del flopper dentro qui ne abbiamo già fatti ma dovevo passarci comunque lì qui fuori da farti qua dritto vado qui sotto 2 non una per volta sono spaccato dopo tempo che si ferma pesce vada vada pesce pescione grosso destra destra faccio questo non entro qui e vado dritto vada vada intanto se se non ha cura le bastano questi pesci più i barili flopper calmo calmo flopper questi vado ok ma poi a 400 c'erano altri 3 però va bene calmo 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 cal Devo dire che questo giro è meglio Questo giro è meglio Questo giro è una c***a da fare Porca tr***a E il bello è che ne erano ancora un sacco di pari Sì, ne ha buttati 15 Io dico a destra, lui guarda poco poco a destra Sì, è vero, è vero Easy Ha vinto Caxhooter LOL